Circuito RC alimentato da una FEM costante in fase di carica e poi si scarica sulla maglia superiore. Vediamo come funziona la fase di carica e di scarica di questo circuito RC. Il circuito comprende una resistenza, meglio un resistore di resistenza R, un condensatore di capacità C e una FEM di valore costante, per esempio diciamo 10V. Il circuito è composto di due maglie e con questo interruttore si può chiudere la maglia inferiore o la maglia superiore. La maglia inferiore serve per la fase di carica, la maglia superiore per la fase di scarica. Cominciamo con la fase di carica, quindi l'interruttore è chiuso in basso. Il generatore fa scorrere la corrente in senso anti-orario, che consideriamo positiva. Il condensatore inizialmente è scarico. Chiamiamo Q la carica sull'armatura destra e meno Q la carica sull'armatura sinistra. All'inizio Q è zero. Il generatore spinge la corrente elettrica. La corrente elettrica significa una certa quantità di coulomb ogni secondo che attraversa qualsiasi sezione del filo. Immaginiamo per esempio che all'istante iniziale la corrente sia di 5 A. Vuol dire che passano 5 Coulomb al secondo. Ma prendiamo un intervallo di tempo brevissimo, per esempio un microsecondo, un milionesimo di secondo. Allora in quel milionesimo di secondo passano 5 milionesimi di coulomb. E questa carica 5 microcoulombe va ad accumularsi sull'armatura destra del condensatore. Vediamo quindi che la carica del condensatore inizia ad aumentare e di conseguenza anche la differenza di potenziale tra le armature che ho chiamato Vc. La differenza di potenziale capi del condensatore che è legata alla carica sulle armature e da questa relazione che è la definizione di capacità elettrica. Quindi la differenza di potenziale Vc è proporzionale alla carica che si accumula sulle armature. Dunque anche la differenza di potenziale cresce come fa la carica sulle armature. Dal valore 0 si porta a un valore appena superiore. È passato il primo microsecondo. Passiamo al successivo microsecondo. Il condensatore è già leggermente carico e comincia a ostacolare il passaggio di ulteriore corrente elettrica in quanto queste cariche positive respingono le cariche positive portate dalla corrente elettrica che vogliono arrivare qui sull'armatura. Quindi il condensatore inizia a comportarsi da contro generatore come se fosse un generatore rivolto in verso opposto rispetto a questo. Dunque la corrente continua a passare ma diventa un pochino meno intensa. Per esempio da 5A adesso diventa 4A e mezzo. E comunque questa corrente continua ad accumulare ulteriore carica sulle armature del condensatore. Perciò continua la fase di carica e contemporaneamente aumenta la tensione ai capi del condensatore anche se questo aumento è più lento rispetto all'inizio. L'equazione del circuito è la legge di Ohm generalizzata. Abbiamo in pratica due generatori uno è quello vero F e l'altro è il condensatore che si comporta come contro generatore con una sua FEM F del condensatore che in pratica è uguale a meno la differenza di potenziale ai suoi capi. Il segno meno sta a indicare appunto che questo condensatore vorrebbe spingere le cariche elettriche nel verso opposto al primo generatore, quello vero. Quindi abbiamo questa equazione qua al posto di Vc scriviamo con questa formula Q su C e al posto della corrente elettrica come abbiamo visto prima scriviamo Q punto cioè la rapidità di variazione della carica sulle armature del condensatore infatti la corrente elettrica come abbiamo visto prima rappresenta quanta carica passa al secondo attraverso ogni sezione del filo ma è anche quanta carica si accumula al secondo sulle armature del condensatore quindi otteniamo questa equazione che è un'equazione differenziale infatti l'incognita non è un valore numerico ma è una funzione la funzione è Q in funzione di T cioè l'andamento della carica elettrica sulle armature del condensatore sull'armatura positiva in particolare equazione differenziale perché compare l'incognita che è una funzione e compare la sua derivata quindi c'è questa funzione del tempo ma anche la sua derivata è funzione del tempo è un'equazione differenziale del primo ordine perché oltre alla funzione compare la derivata prima se comparisse anche la derivata seconda sarebbe un'equazione differenziale del secondo ordine qui non è mostrata la risoluzione e neanche la verifica che questa soluzione o quest'altra soddisfano l'equazione differenziale ho riportato soltanto la soluzione cioè la funzione matematica che esprime la carica che aumenta nel tempo ai capi del condensatore e successivamente la carica che diminuisce è quando il condensatore si scarica sulla maglia superiore ma lo vediamo meglio dopo torniamo alla fase di carica e vediamo che questa funzione è una funzione esponenziale crescente che asintoticamente tende a un valore di carica massima Qmax e allo stesso modo tanto sono proporzionali la differenza di potenziale Vc e la carica anche la differenza di potenziale Vc cresce nello stesso modo perché è proporzionale alla carica e si porta asintoticamente nel tempo al valore Vc max la massima differenza di potenziale ai capi del condensatore che vale esattamente quanto la Femme del generatore infatti immaginiamo come abbiamo detto prima che il generatore ero che è una Femme di 10 volt allora la differenza di potenziale del condensatore cresce progressivamente fino ad arrivare a 10 volt a quel punto il condensatore blocca ulteriori passaggi di corrente perché si comporta come un controgeneratore che ha la stessa diciamo tra virgoletta forza ha la stessa forza elettromotrice in modo rigoroso rispetto al generatore vero quindi quando la differenza di potenziale ai capi del condensatore diventa di 10 volt come la Femme del generatore il condensatore è in grado di bloccare ulteriore passaggio di corrente elettrica e quindi il condensatore non si carica più di così la carica elettrica raggiunge il valore massimo e anche la differenza di potenziale raggiunge il valore massimo che appunto è F la fase di carica espressa in termini di differenza di potenziale ai capi del condensatore assume una forma matematica identica alla funzione di carica che abbiamo visto prima con la differenza che non c'è più la carica ma c'è la differenza di potenziale ai capi del condensatore e il valore massimo è F la carica massima il suo valore lo ricaviamo da questa formula è C per Vc massima quindi C per F come indicato qua il significato della costante tempo Tau che si dimostra risolvendo l'equazione differenziale essere R per C il suo significato fisico intuitivo è dare una misura orientativa di quanto è lenta la fase di carica di questo circuito infatti se andiamo a sostituire al posto del tempo il valore Tau quindi per T uguale a Tau il valore della carica il valore raggiunto dalla carica sul condensatore vale Qmax per 1-1 su E 1-1 su E vale circa 0,63 e quindi Tau è quell'istante di tempo in corrispondenza del quale la carica del condensatore si è portata da 0 fino a circa il 63% del valore di carica massimo e la stessa cosa vale per la differenza di potenziale che capita il condensatore che a partire dal valore 0 in un tempo Tau si porta al 63% del valore massimo di per esempio 10 volt nell'esempio di prima la costante tempo uguale RC è intuitiva infatti se il condensatore ha una grande capacità è come se fosse un bicchiere molto largo tipo una grossa pentola che va riempita di carica elettrica oppure nell'analogia della pentola va riempita d'acqua e se questa pentola è molto grande serve molto tempo per riempirla quindi il processo di carica sarà lento quindi è ovvia la presenza della capacità del condensatore più il condensatore è grande più tempo richiede la sua carica è intuitiva anche la presenza della resistenza perché un resistore di grande resistenza limita molto il flusso di corrente quindi fa passare poca corrente è come tornando all'esempio del rubinetto con la pentola sotto è come se io avessi una grossa resistenza che mi fa fluire soltanto un filo d'acqua cioè dal rubinetto scende un filo d'acqua e quindi la carica è molto lenta avviene in molto tempo la carica completa del condensatore e come avviene in molto tempo il riempimento completo della pentola con un filo d'acqua l'energia che è stata spesa dal generatore per spostare queste cariche contro la volontà del condensatore e caricare il condensatore non è andata persa o almeno in parte è andata persa è andata in energia termica dissipata per effetto Joule dalla resistenza ma l'altra parte è andata invece ad accumularsi all'interno del condensatore e precisamente nel campo elettrico tra le armature per esempio dopo un certo tempo T per esempio diciamo che il tempo T sta qui la quantità di energia che troviamo accumulata nel condensatore si calcola con questa formula e ovviamente dipende dalla quantità di carica infatti più tempo passa più questa carica aumenta e più energia la batteria ha dovuto spendere e il condensatore ha accumulato nel suo campo elettrico la densità spaziale di energia cioè la densità volumica cioè quanta energia è racchiusa per esempio in ogni millimetro cubo di spazio all'interno del condensatore si esprime attraverso questa formula un mezzo epsilon zero e alla seconda quindi l'energia si è elettrica si è accumulata nel campo elettrico tra le armature più il condensatore è carico come abbiamo visto prima più energia è accumulato più è intenso il campo elettrico tra le armature e quindi più densità di energia nello spazio c'è qua in ogni millimetro cubo di spazio passiamo ora alla fase di scarica chiudendo l'interruttore sulla maglia superiore il generatore viene escluso dal circuito e si comporta da generatore il condensatore adesso facendo passare la corrente elettrica in questo senso in quanto l'armatura positiva scarica le cariche elettriche e le riporta sull'armatura negativa progressivamente il condensatore si scarica a partire dal valore massimo Qmax che aveva raggiunto durante la fase di carica precedente anche la scarica è una funzione esponenziale che ha la stessa diciamo lentezza o rapidità che aveva la carica nel senso che la costante tempo tau è la stessa infatti questa costante tempo compare in questo esponenziale come compariva nell'esponenziale precedente la differenza è solo che questo esponenziale era una funzione crescente ecco perché 1-e alla meno t su tau mentre invece questa esponenziale di scarica è decrescente e quindi e alla meno t su tau se andiamo a sostituire al posto del tempo generico t il valore tau troviamo che la carica vale Qmax diviso e e vale circa 2,7 e quindi tau è quell'istante di tempo tale che la carica elettrica è diminuita fino al valore massimo diviso e che è circa 0,37 il valore massimo quindi la carica è diminuita a circa il 37% del valore iniziale che era il valore massimo questo è tau è l'istante di tempo in cui la carica scende al 37% all'incirca tutto quello che vale per la carica che diminuisce nel tempo vale allo stesso modo anche per la differenza di potenziale infatti ricordiamo che le due grandezze sono proporzionali quindi diminuendo la carica diminuisce la differenza di potenziale in modo esponenziale con un andamento identico a quello della carica partendo dal valore massimo che era f la femme del generatore scendendo con la stessa costante tempo quindi con la stessa rapidità o con la stessa lentezza fino ad annullarsi asintoticamente a 0 e quando si arriva in teoria per tempi infiniti in pratica già per due o tre volte la costante tempo quando si arriva diciamo a tre o quattro volte la costante tempo allora possiamo considerare il condensatore completamente scarico che 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 Grazie.